Vasari, ci siamo. Ultime verifiche delle misure di sicurezza già precedentemente delineate per la mostra Il Teatro delle Virtù, che sarà inaugurata il prossimo 31 ottobre alle 9.30 ufficialmente per il pubblico. È stato questo l'argomento della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi oggi in Prefettura, dove è stata fatta una definitiva ricognizione di tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza della manifestazione. I presenti hanno ulteriormente analizzato e condiviso le misure già programmate. In conclusione il Prefetto ed il Sindaco, nel ringraziare tutte le componenti del sistema della sicurezza per l'impegno profuso, hanno formulato i migliori auspici per una grande riuscita dell'evento. E domani alle 15.15 preview per i giornalisti. A seguire i prestatori di opera. Teletruria sarà in diretta dalle 18 per raccontare l'evento in anteprima. La trasmissione vedrà in studio il direttore Luigi Alberti con i suoi ospiti Liletta Fornasari e Claudio Santori, che saranno collegati direttamente con la mostra. Un grande evento che fino al 2 febbraio farà molto parlare di sé, anche e soprattutto per il ritorno del bronzo etrusco La Chimera ad Arezzo.